24 giugno alle ore 18 e 30 questa è la data e l'orario in cui si terrà la prossima confartigianato masterclass si terrà in modalità webinar e parleremo dell'assette più importante dell'imprenditore la gestione delle proprie emozioni la masterclass sarà tenuta da fabrizio cozza fondatore di un'accademia per imprenditori per iscriverti clicca qui sotto grazie